Zainetto tattico olandese. Era uno zainetto che veniva agganciato sul gibernaggio nella schiena. È un materiale particolare, totalmente antiacqua, un tessuto gommato, due agganci anteriori per chiuderlo con due fibbie metalliche. I bordi sono rinforzati con dei puntali rigidi sotto a due passanti termosaldati e al suo retro troviamo delle fibbie per agganciarlo sull'eventuale equipaggiamento, gibernaggio, e altre due fibbie metalliche sempre per agganciarlo. Ai suoi lati ha due fibbie metalliche identiche a quelle che abbiamo già visto, sia una qui e un'altra qua. Eventualemente è possibile montare una tracolla che troverete poi sul sito. In questo zainetto è contenuta una scatola che noi abbiamo messo per evidenziare quanto sia capiente. alla sua parte superiore ha queste coperture dove poi potrete mettere un cordino e chiuderlo meglio. Togliendo queste estraiamo un'intera scatola con una scatola di scarpe dentro lo stivaletto magnum. Questo dà l'idea della capacità di questo zainetto. migliorate spie East e ed spie 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 Grazie.